Michele Saracino, sindacalista della Polizia di Stato, SIULP, classe 1968. Quanto è precario il mestiere del poliziotto? Fortunatamente ancora non lo è. Speriamo che non lo dimenti mai. Quanto è pericoloso il mestiere del poliziotto? Diventa pericoloso quando lo si affronta senza un'adeguata preparazione e con superficialità. A che età hai maturato la decisione di entrare nelle forze dell'ordine? Molto piccolo. Ti è mai capitato di sparare? Fortunatamente solo in aria. Statisticamente è emerso che il numero dei poliziotti che in servizio hanno avuto un conflitto a fuoco è nettamente inferiore rispetto a quello di chi non ha mai utilizzato un'arma. Cosa significa? Sono inesperti? No, anzi, l'uso dell'arma è sempre un estrema razza, quindi finché quella statistica sarà bassa secondo me significa che il lavoro è stato fatto bene. Quanto è difficile gestire una manifestazione di piazza? Assolutamente molto difficile perché le variabili in campo sono tante. Un poliziotto può aver paura? Assolutamente sì. Esistono corsi per distinguere una ragazza da uno zaino durante una manifestazione? Questa è cattivella. Non esistono corsi che possano riuscire a replicare esattamente quello che avviene in piazza. Tu che sei un grande esperto di sport e di calcio, direi che se ci devono essere le moviole, bisogna guardare i falli di reazione ma anche i falli da dietro. Sottopagati, in continuo movimento sulla volante, senza benzina, addirittura poco rispettati in certi ambienti un po' naif. Più che una vita da precario, non è una vita da incompreso quella del poliziotto? Potrebbero essere, però è anche una vita che ti può riempire di soddisfazione e quindi compensa le incomprensioni. Ti è mai capitato di usare il manganello o di usare l'arma e poi pentirtene? No. Chi era il commissario Calabresi? Era una persona per bene, vittima dei suoi tempi. Chi era il generale dalla chiesa? Un'altra persona per bene, vittima dei suoi tempi. Chi era Pinelli? Un'anarchico vittima dei suoi tempi. Favorevole o contrario alla riapertura delle case chiuse? Sono contrario alla vendita dei corpi. Sono dell'idea che comunque, visto che in paesi civilissimi si utilizzano le case chiuse, non vedo perché non si possono utilizzare anche in Italia. Al ripristino dei controlli di frontiere in Europa? Credo che non sia in Alzandimuri che risolviamo il problema dell'immigrazione. Al codice identificativo sui caschi dei poliziotti? Sì, ma in un sistema di regole di come si manifesta in piazza. All'abbassamento dei limiti di velocità? Non è quella la strada per migliorare la sicurezza stradale. I lacrimogeni sono un moderno sfollagente oppure si potrebbe cercare qualche altro rimedio per gestire le piazze? È sempre molto complicato. Credo che vada usato con criterio al pari dello sfollagente. Mai più un disastro come quello di Genova. Possiamo semplicemente dire che ci fu troppa violenza? Assolutamente sì, però dalle polemiche di questi giorni vedo che nessuno ha ancora imparato la lezione. Telefonami fra vent'anni, io adesso non so cosa dirti. Lo cantava Lucio Dalla. Tu, tra vent'anni, come ti vedi e cosa avresti da dirci? Spero in pensione, in un'isola delle Canarie e magari scrivere un libro.